Siamo in compagnia di Giorgio Bianchi, fotoreporter romano, che negli anni ha documentato conflitti come quelli in Siria e in Ucraina. Ecco, da quale esigenza è nata l'idea di utilizzare la fotografia come mezzo per raccontare la realtà e poi farne una professione? Intanto, buonasera a tutti. Per un appassionato di fotografia, da sempre, romano, la fotografia di reportage si inserisce in una lunghissima tradizione italiana e romana in particolare che affonda le sue radici nella dolce vita quando battaglioni di fotografi inseguivano gli attori americani per le strade di Roma. Poi, grande parte di questi fotografi si trasferirono armi e bagagli a documentare i conflitti di classe, le lotte studentesche, gli anni di piombo, restituendoci un affresco che ancora oggi risulta essere vibrante di emozioni, di passione e soprattutto ci racconta perfettamente quelle che furono gli avvenimenti di un'epoca. Quindi, per chi è cresciuto guardando quelle fotografie, per chi aveva la passione della fotografia e per chi voleva documentare, diciamo che un po' il fotogiornalismo diventa quasi una scelta obbligata e si inserisce perfettamente nel solco di una grande e gloriosa tradizione italiana. Entriamo proprio nel vivo della sua produzione. Ecco, su questo tavolo abbiamo una delle due foto che portano la sua firma in esposizione qui alla Dolce Vita Gallery fino al 28 luglio. Ecco, che storia si nasconde dietro questa mano? Questa in particolare è una foto di un dettaglio della mano di un minatore, un minatore che lavora in una delle miniere artigianali del Donbass. Qui vediamo una mano completamente impregnata di carbone che loro devono necessariamente asportare per via meccanica perché non si lava via semplicemente con il sapone, devi strofinare per ore per mandare via quel carbone e da questa mano, diciamo, impregnata di carbone si intravede una fede che appunto è il simbolo della famiglia. Quelle miniere sono veramente una miniera non solo di carbone ma anche di storie, storie veramente interessanti. Quindi la foto come testimonianza di una realtà nascosta, sotterranea in questo caso, ma cosa vuol dire per lei fotografare? Quello che dico sempre è in un'epoca in cui i fotografi amano dipingersi con un alone quasi messianico di persone che vogliono cambiare il mondo e che hanno chissà quale sensibilità, per me la fotografia resta un mestiere, un modo come un altro per mangiare. Mi piace, lo faccio volentieri, ma non è nulla più che un mestiere. Grazie Giorgio. Grazie. 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 Grazie.